ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video vi ringrazio perché quello di ieri sera orari notturni improponibili è andato bene decisamente bene poi è ovvio che per pubblicare un video quell'ora deve esserci una buona notizia deve esserci qualcosa da raccontare se no semplicemente aspettiamo e cerchiamo di ragionare fare due chiacchiere in maniera più tranquilla la notizia ieri sera è stata forte e cioè l'interesse della juve per nicolò zagnolo oltre all'arrivo di angel di maria quindi insieme e mi sono chiesto però per riuscire ad acquistare anche nicolò zagnolo e va bene la contropartita che dovrebbe essere inserita per cercare di abbassare il prezzo no ovviamente non è che la juventus sta ragionando di fare un investimento grosso come zagnolo al fronte di una cessione grossa come quella di delit non dimentichiamoci che non è finito niente con il celsi nel senso che non è che hanno cambiato idee adesso ci lasceranno stare no è molto probabile che torneranno alla carica è molto probabile che cercheranno di modificare l'offerta la juventus in questo momento sembra essere volenterosa di cessione solo di fronte a un'offerta rinunciabile tra i 100 e i 120 milioni a quelle cifre ragazzi non prendiamoci in giro ve lo dico da fan numero uno di elite si vende perché non esiste nemmeno un difensore della storia che sia andato via a quelle cifre e sì possiamo ragionare sugli 80 e 90 di van dick di 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 eri mcgaier va bene sì però sono trasferimenti all'interno della premier league sono cose completamente diverse io credo proprio che sulla cifra dei 100 milioni di euro l'eventus va da accedere ma credo anche che sia giusto così è mettiamoci nella testa che a 100 milioni di euro si vende a meno che non è tra le mani il nuovo fenomeno del calcio mondiale per quanto mi riguarda dell'ite il più vicino a diventare il miglior difensore per i prossimi anni ma un difensore a 100 milioni si vende poi io sono dell'idea che non necessariamente la juventus cercherà di reinvestire tutto quel tesoretto sul mercato e allora mi sono fatto diverse domande anche perché mi è apparso questo trafiletto che era sul correre dello sport che è il piano di risparmio della juventus obiettivo cercare di risparmiare 80 milioni di euro di incassare 80 milioni di euro 20 da arabio 20 da rovella 12 da luca pellegrini 10 da mandragora come ci dicono 9 più 1 di bonus è praticamente fatto con la fiorentina 10 ivrioni 5 brunori 3 zanimacchia e metterli tutti insieme arrivi a fare un'ottantina di milioni di euro più eventualmente se ci rimettiamo altri soldi che potrebbero derivare proprio dall'accessione di delit e questi soldi poi andrebbero reinvestiti allora sul mercato per cercare anche di allungare la panchina io sono dell'idea che se riusciamo a fare questi 80 milioni di euro circa dalle cessioni e in più cediamo pure dell'eta un centinaio di milioni di euro allora la juventus ha la possibilità di fare magari due difensori centrali magari uno già pronto come può essere culibali non dimentichiamoci mai che questo discorso tra culibali e napoli è un po complicato non c'è nessuna chiusura ufficiale di culibali alla juventus era circolato un articolo in cui dicevano culibali avrebbe detto agli amici mai alla juventus al valore come il 2 di bastoni quando la briscole ha denari ragazzi cioè non vuol dire niente poi magari non arriverà io sono io stesso sono dell'idea che culibali non arriverà la juventus però attenzione che con la juve che va a incassare tanti soldini sul mercato potrebbero cambiare le cose perché le juve potrebbe affondare il colpo e presentare una buona offerta sia al napoli che al difensore e allora mi sono chiesto ma se la juventus sta cercando di cedere delit o comunque se la juventus andrà a cedere delit ma più che altro sta cercando di acquistare zagnolo che come potrebbe essere schierata in campo senza delit ma con zagnolo ed eventualmente una panchina più lunga ora per il momento me la sono immaginata con cambiaso a sinistra che non è esattamente il tipo di difensore che credo sarà titolare nella juventus l'anno prossimo penso proprio di no però per il momento ve l'ho messa così e con culibali al posto di delit poi ribadisco secondo me se parte delit due deve acquistarne per avere culibali bonucci gatti e un altro affidabile che possa giocare magari che possa addirittura prendere il posto di bonucci nelle gerarchie con gatti pronto a crescere nel discorso con anche delit con bonucci che giocherà sicuramente meno partite l'abbiamo visto anche negli ultimi anni quindi io mi immagino un pacchetto difensivo di questo pippo se parte delit se rimane delit bonucci gatti e un altro perché con o senza la partenza di delit serve almeno un altro centrale e la cessione di rugani per quanto mi riguarda se vuoi rimanere con quattro centrali e gatti deve essere il quarto mi devi prendere un altro non si scappa da questa cosa non possiamo presentarci con delit bonucci gatti e rugani non esiste allora me la sono immaginate così e mi sono chiesto dove potrebbe giocare zagnolo perché attenzione ragazzi zagnolo interessante perché è duttile cioè zagnolo ha fatto praticamente la punta quest'anno in appoggia tammi abram potrebbe fare anche la mezzala ha fatto anche la mezzala anche se secondo me non è esattamente il suo ruolo e potrebbe fare l'esterno di destra in un attacco a tre o comunque l'esterno di destra in un tridente alle spalle della punta quindi mi sono immaginato alcune formazioni e questa è la prima per dire 4 3 3 perché di maria sinistra e chiesa destra non perché lo voglio io ma perché sapete benissimo che allegra difende 4 4 2 e allora mi sono immaginato zagnolo sul centro sinistra e pogba sul centro destra per poter difendere in questo modo con due linee da quattro no con zagnolo a parte chiesa all'altra sicuramente sfruttare zagnolo e chiesa sugli esterni e di maria in appoggio a braovic secondo me ragazzi diventa in assoluto un modo ottimo per cercare di valorizzare questi calciatori c'è il dubbio pogba locatelli ho avuto un po' di difficoltà devo dirvi la verità ci sto ragionando da qualche giorno locatelli è cresciuto facendo molto molto bene il giocatore davanti alla difesa no nei due davanti alla difesa col sassuolo dove ha dato il meglio di sé il nazionale ha giocato come mezzala di destra dove ha fatto pure la doppietta con anzi di sinistra dove ha fatto la doppietta all'europeo può fare anche benissimo la mezzala di destra quindi locatelli può giocare bene o male nei tre ruoli del centro campo e in più può giocare davanti alla difesa nei due di centro campo pogba è una mezzala e dove ha reso meglio in questi ultimi anni dove faceva il secondo a centro campo nello united invece non rendeva al massimo ecco diciamo così non è non è stato il mio pogba quindi mi immagino che bene o male possano adeguarsi a giocare davvero a tre o comunque un tre finto quindi ci stava l'ipotesi del 4 3 3 è anche vero che potrebbero davvero invece optare per un 4 2 3 1 e allora mi sono immaginato alcune situazioni relativa a zagnolo e ovviamente di maria in un 4 2 3 1 e potrebbe essere così locatelli e pogba davanti alla difesa locatelli lì ci gioca alla grandissima poi magari potrebbe giocare sul centro destra e pogba sul centro sinistra quello cambia poco decisamente con di maria dietro vlaovic e zagnolo a destra questo perché perché permetterebbe a zagnolo e a chiesa semplicemente di abbassarsi sugli esterni e a di maria di risparmiare energie perché è sempre il mio dubbio ragazzi secondo me di maria non scende a fare tutta la fascia a destra secondo me non semplicemente non succede e quindi questo potrebbe essere un'opzione di 4 2 3 1 qua forse se il più penalizzato è pogba appunto perché va un po a perdere di libertà oppure c'è l'altra possibilità che ripeto secondo me è meno probabile perché c'è di maria a destra quindi di maria e chiesa sugli esterni con zagnolo dietro vlaovic dobbiamo prendere in considerazione anche questa può essere un'ipotesi poi c'è un'ipotesi che non vi ho lasciato qua ed è semplicemente non giocano tutti insieme e potrebbe benissimo togliere uno tra chiesa zagnolo di maria e mettere dentro un centrocampista in più e fare 4 3 3 puro con l'altro pronto a entrare sono possibilità tutte io non ho idea di quello che passa in questo momento per la testa di massimile allegri sicuramente un rebus devo dire la verità sicuramente un rebus credo anche però che per la juventus ci sia la possibilità di acquistare zagnolo anche senza l'accessione di rite per via di quel famoso tesoretto che abbiamo visto lì anche perché ragazzi facciamo due conti un attimo pogba e di maria arrivati ok dovrebbero arrivare parametro zero pogba molto più certo di maria anche di maria ieri ci sono stati segnali di apertura di ottimismo quindi facciamo finta che sempre facciamo finta che sia fatto anche di maria cambiaso di cui si è parlato cosa vuoi mai che possa costarne decine di milioni di euro più una contropartita va bene poi se non ci di diritto un difensore a centrocampo l'abbiamo detto tante volte ne hai tanti e davanti che devi comprare perché siamo in pochi e quindi sì magari parametro zero parametro zero giocatore giovane di una squadra retrocessa un investimento davanti lo puoi fare e può essere davvero zagnolo e poi magari un secondo investimento più piccolo da 15 milioni di euro circa che potrebbe essere morata o kostic quindi avresti cinque acquisti e in questo modo più il rientro di fagioli sono già sei più ragazzi poi bisogna vedere cosa deve succedere forse davanti ancora qualcosina dovresti farlo oppure un centrocampista se proprio proprio esce anche mccenni dopo sono già sette capite bene che sette acquisti sono tanti più le eccessioni che abbiamo visto prima senza considerare l'eventuale eccessione di elite quindi zagnolo pensandoci bene non è così impossibile per quanto mi riguarda proprio perché la juventus ad oggi non andrebbe a tirar fuori chissà che cosa sarebbe l'unico grande investimento se vogliamo con la possibilità di inserire una contropartita e magari una formula creativa come è stato fatto con chiese locatelli quindi prestito con obbligo di riscatto che poi ti pago tra qualche anno e allo stesso modo la Roma potrebbe fare con Arthur prestito magari con diritto e non obbligo che se alla fine non si trovano Arthur è libero di tornare potrebbe ripiazzarlo quindi attenzione che più ci penso più sono stimolato ma questa cosa perché è possibile perché si va a prendere anche di Maria parametro zero e questo potrebbe essere una delle motivazioni per cui la juventus non ha mai mollato il fideo e sinceramente devo dirvi la verità guardandola sotto questa chiave di lettura potrebbe essere molto più giustificato anche perché ribadisco fare un solo anno di contratto a un calciatore per me non è fantastico non è per niente bello ma proprio per niente bello se dall'altra parte ci metti di fianco uno come Zagnolo che non dico che è lo stesso ruolo che non dico che è lo stesso livello anzi non lo è però sicuramente un giocatore interessante allora potrebbe acquisire un po' di logica vi dico la mia secondo me Mezzala no però conoscendo Allegri che è folle è un matto potrebbe pure buttarlo lì oppure semplicemente se potrebbe giocare con un 4-3-3 normale e avere un giocatore utile forte come Di Maria Chiesa Zagnolo in panchina pronto subentrare anche perché non dimentichiamocelo mai non sappiamo come tornerà Chiesa non sappiamo quando tornerà pieno regime quindi sono tutte cose da tenere in serie a considerazione quindi si potrebbe iniziare eventualmente con Zagnolo Di Maria Evlaovic e poi vedere come va fatemi sapere un po' che cosa ne pensate io vi dico che alle 14 ci vediamo in live su twitch con una carriera allenatore simulata su fifa 22 dove proveremo a rispondere a questa domanda quando vincerà la champions la juventus cedendo d'elite quindi proveremo a simulare tre stagioni e a vedere se riusciremo ad alzarla champions con la cessione del nostro difensore centrale fatemi sapere se siete interessati a questo contenuto ci vediamo alle 14 live su twitch e fatemi sapere anche la vostra sul discorso cessione d'elite posizioni in campo di Zagnolo e eventualmente anche altri colpi che la juve potrebbe fare ragionando sul tesoretto che abbiamo visto delle cessioni e magari la macro cessione di d'elite a questo contenuto ci vediamo alle 14 live su